Cari amici, eccoci con l'ultima settimana mistica 4664, numero palindromo, risolviamo qualcosa, per esempio un rebus, un rebus di quelli di pagina 36, sempre mattirano perché hanno sempre qualcosa di curioso ed innovativo. Vediamo l'ultimo, l'ultimo rebus di pagina 36, cosa ci presenta? Dobbiamo guardare, c'è K che penso indichi la stanza, R questa persona, RZ con questi lampi, fulmini e altri segni di non apprezzamento penso, di rabbia e K indica proprio la stanza mi sembra, è R, cosa è di strano? Ha il motivo per cui questa si arrabbia, R penso che stoni, sia lui che stoni, infatti da queste note mi sembra di aver capito che può essere che stona, stona. Allora è una cosa così che capita tante volte, bisogna indicare la stanza, in K e allora incastonare, incastonatura, così può venire fuori, però dobbiamo fare 11 lettere, in K, in K, sono 4, sto, siamo arrivati a 7, na, incastona, 9, incastonato o incastonare, penso che sia qualcosa del genere. E però dobbiamo dire che RZ che si trova, guarda bene l'immagine, ecco RZ è una donna che si trova con loro, con questo trio, in questa stanza, vedete che tutte le cose sono messe non a caso, c'è una persona, un addetto ai monitor, alla registrazione che sta fuori della stanza, ed è messa a posto perché noi dobbiamo fare attenzione al fatto che loro si trovano in queste stanze, tutti quanti, e allora io sono pronto per scrivere la soluzione. Allora vediamo, in K, nella stanza K, stona, incastona, e siamo arrivati, dicevamo a 9, ancora 2, incastonare sarà, incastona R, E, incastonare vuol dire mettere delle pietre preziose negli anelli, no? Incastonare R, E, RZ mi viene una parola di una pietra preziosa, o comunque di una pietra, il quarzo, e qua, in K, stona, R, E, congiunzione, qua, RZ si arrabbia, questo quarzo, ma quarzi forse, perché se fosse quarzo avrebbero detto incastonare un quarzo, no? Siccome non c'è l'articolo, penso che sia, ah ecco, quarzi, lei è irata, irata ci starebbe, ma è un'altra parola, è irosa, quarzi rosa, ecco adesso io non sono a conoscenza se i quarzi sono rosa o di altri colori, comunque questa è la soluzione, incastonare, quarzi rosa, in K, stoner, RZ, irosa, mi arrabbierei anch'io. Bene signori, risolto anche questo, risolviamo proprio tutto, andiamo a cercare qualcosa di più difficile. Ciao a tutti.